signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale e voi siete rimasti incuriositi dal titolo di questo video negli scorsi mesi abbiamo parlato dei png e ci siamo soffermati sugli antagonisti soprattutto intesi come organizzazioni di antagonisti organizzazioni malvagie che vanno a ostacolare i progressi degli eroi abbiamo visto come organizzarle come sono composte come inserirle all'interno della vostra quest o comunque all'interno del vostro mondo di gioco per ora però non ci siamo mai soffermati su un aspetto in realtà estremamente importante che ha delle conseguenze non solo sulla vostra storia ma proprio sull'organizzazione stessa delle vostre quest com'è che queste organizzazioni malvagie hanno intenzione di ottenere qualunque sia il loro scopo malvagio questo è qualcosa che non dovete mai sottovalutare quando andate a inserire un'organizzazione antagonista all'interno della vostra campagna indipendentemente da cosa sia questa organizzazione malvagia che sia la multinazionale corrotta che sia il regno del malvagio barone ogni organizzazione ha sì un obiettivo che deve perseguire un motivo per fare quello che fa ma avrà anche un piano per conseguire questo obiettivo e in molti casi per quanto riguarda voi e il vostro gioco questo piano è probabilmente più importante dell'obiettivo stesso e dato che sicuramente questa affermazione merita una lunga spiegazione questa settimana andremo a vedere proprio perché il piano malvagio è così importante e come inserirlo al meglio all'interno della vostra campagna ho detto che i piani dell'organizzazione malvagia sono probabilmente più importanti degli obiettivo stesso perché effettivamente questo sembra essere quasi contraddittorio dopo tutto lo scopo per cui esiste l'organizzazione è quello di conseguire l'obiettivo non tanto come faranno a farlo sì ma non vi dimenticate che noi non stiamo parlando di qualcosa di reale tutto quello che accade all'interno di un gioco di ruolo è fiction e quindi il parametro di riferimento per qualsiasi cosa non è tanto quello che succederebbe nella realtà ma è come questo fatto va proprio a influenzare la fiction la storia ovviamente all'interno della fiction per i membri dell'organizzazione malvagia la cosa più importante sarà ottenere il loro obiettivo indipendentemente da quale sia il mezzo che faranno ottenerlo anzi potrebbero essere disposti a utilizzare qualunque mezzo per ottenere i loro scopi e anche dal punto di vista degli eroi qualunque sia l'obiettivo che l'organizzazione malvagia si impone di compiere sicuramente se sono malvagi quell'obiettivo sarà deplorevole quindi la cosa importante è fermarli e impedire che lo portino a termine se il malvagio varone vuole imbadere il regno cercherà di farlo con ogni mezzo a sua disposizione e gli eroi vorranno ricacciarlo all'interno dei suoi confini in qualunque modo riescano a farlo anzi per quanto riguarda i personaggi all'interno del loro mondo di gioco probabilmente meno dovranno sforzarsi per conseguire questi obiettivi meglio sarà il fatto però è che voi non state scrivendo una quest per i personaggi immaginari all'interno del gioco voi la state scrivendo per le persone reali che avete sedute al tavolo e lo vostro scopo non è facilitare la vita dei loro personaggi e rendere la storia interessante per loro questo obiettivo questa separazione tra giocatori e personaggi è estremamente importante quando nella scorsa stagione abbiamo parlato di sandbox vi lascio il video linkato qui in alto se non andarlo a recuperare abbiamo detto che quel tipo di gestione della quest favorisce un gruppo che voglia interpretare i cattivi all'interno della storia proprio perché dando più libertà ai giocatori di spaziare fondamentalmente dando ai giocatori la possibilità di decidere da soli quali sono le quest che vogliono intraprendere nel classico archetipo del gioco di ruolo sono diciamo sono i cattivi sono gli antagonisti a essere quelli propositivi i malvagi vogliono fare qualcosa gli eroi intervengono per fermarli sicuramente quando l'antagonista comincerà a mettere in moto il suo piano gli eroi interverranno per fermarlo ma fin tanto che non ci sono torti da raddrizzare o innocenti da proteggere nella maggior parte dei casi c'è poco lavoro da fare per gli eroi se non girare vedere che nessuno si stia comportando male ora in un sandbox sicuramente anche un gruppo e voglia schierarsi dalla parte del bene avrà qualcosa da fare sarà il master a buttargli cose lungo il cammino bisogna però dire una cosa il sandbox è un modo abbastanza raro di gestire una quest sono queste molto particolari la maggior parte delle quest che giocherete che organizzate come master seguono una struttura molto più lineare basata sul railroad in una quest lineare più classica dove c'è una serie di eventi previsti vengono scatenati da un incidente iniziali all'interno una struttura a tre atti anche di questo abbiamo parlato comunque diciamo in una quest più standard fondamentalmente gli eroi staranno nella locanda a bere fin tanto che qualcuno non andrà a dirgli che i malvagi hanno fatto qualcosa è tempo di entrare in azione questa è proprio la parte centrale dell'intera discussione qualunque sia il piano malvagio che all'interno della fiction l'organizzazione malvagia vuole portare a termine per voi e i vostri giocatori nel mondo reale è la principale fonte di intrattenimento di quella quest o di quella campagna sì state calmi adesso ci arriviamo al punto siamo appena a metà video quando voi come master preparate la quest sicuramente dovete dare agli antagonisti un obiettivo e uno scopo questo serve a giustificare la loro presenza all'interno al mondo di gioco e continuare a lavorare sulla verosimiglianza della fiction i giocatori devono avere l'impressione che quello che stanno vivendo potrebbe ragionevolmente accadere in quel mondo e se l'organizzazione malvagia persegue degli obiettivi incoerenti probabilmente diventerebbe un comic relief non sarebbe il grande nemico a sconfiggere ma un gruppo di scemi che fanno cose a caso se l'obiettivo è significativo e il suo impatto sul mondo di gioco sarà importante per i giocatori sarà molto gratificante riuscire a fermarli alla fine rendendo più interessante tutto quello che ha voluto fare per arrivare a quel punto si sentiranno dei veri eroi per essere riusciti a sventare il piano ma nella pratica è proprio questo quello che è interessante per i giocatori non è tanto quello che i loro antagonisti volano fare sono gli antagonisti qualunque cosa volessero fare si può dare per scontato che sia sbagliata quello che sarà la fonte di intrattenimento è proprio il modo in in cui gli antagonisti si approcceranno al loro obiettivo perché quello che all'interno del mondo di gioco è il piano malvagio nel mondo reale sono i punti salienti dell'avventura che voi andrete a giocare al tavolo più il piano malvagio sarà interessante da smontare e gli eventi al suo interno saranno emozionanti da vivere meglio sarà per la vostra quest che poi sia il piano per conquistare il regno distruggere il mondo o quant'altro in realtà è rilevante per i temi per i toni della fiction ma nella pratica serve semplicemente a giustificare le azioni dei giocatori la parte più importante è il fatto che queste azioni vengano compiute le varie fasi del piano che gli antagonisti cercheranno di portare a termine diventeranno per voi le varie quest le vere e proprie quest che i giocatori dovranno andare a superare sia come azioni dirette cercando di opporsi ai piani degli antagonisti sia in maniera indiretta dovendo gestire le conseguenze di quello che gli antagonisti hanno fatto o magari dovendo cercare di prevenire la prossima mossa da parte degli antagonisti quando gli schiavisti draw emergono dal sottosuolo per rapire gli abitanti del villaggio gli eroi dovranno intervenire per evitare di essere rapiti a loro volta e magari proteggere gli abitanti intorno a loro e questa sarà la prima quest della vostra campagna una volta che gli schiavisti saranno tornati nel sottosuolo gli eroi dovranno trovare e seguire le loro tracce fino al loro covo sotterraneo dove magari dovranno liberare altri abitanti del villaggio che hanno stati rapiti e troveranno anche altri indizi che suggeriscono un piano molto più vasto da parte dei draw questa sarà la vostra quest e seguendo quegli indizi gli eroi troveranno un'altra fetta e gli schiavisti draw che sono impegnati a fare qualcos'altro e dovranno impedirglielo e diventerà la terza quest in un ciclo così avanti che caratterizzerà potenzialmente la vostra intera campagna come ho detto prima perché i draw vogliono rapire queste persone sarà importante per il tema sarà importante per tutto il finale narrativo della campagna sicuramente ma quello che sarà importante per voi nell'immediato e per i vostri giocatori sarà più che altro come hanno intenzione di rapirle quali saranno le armi a loro disposizione dove le porteranno dopo averle rapite cosa faranno per tenerle rapite questi saranno gli elementi importanti della quest vera e propria che i giocatori andranno a giocare se quindi avete intenzione di inserire un'organizzazione malvagia all'interno della vostra quest la prima cosa su cui dovete andare a riflettere è proprio quale sarà il loro piano malvagio e come strutturare questo piano in modo che torni estremamente utile a voi nella scrittura della vostra quest e se questo fosse un mondo perfetto qui nel quarto blocco io vi spiegherei qual è l'unico modo corretto per organizzare un piano malvagio secondo il master che ha e a voi basterebbe semplicemente seguire un elenco di punti per poter organizzare la vostra quest e invece purtroppo non esiste una risposta a questa domanda o meglio ne esistono moltissime e dipendono da tutta una serie di fattori esterni che solo voi come master che siete fisicamente al tavolo di uno specifico gruppo avete gli elementi per valutare possiamo prima di tutto dire che il piano deve essere sufficientemente complesso da non risultare immediatamente ovvio per i giocatori e quindi dagli un motivo per indagare con i loro personaggi se le cose sono troppo facili semplicemente la quest risulterà noiosa però dovete fare anche attenzione perché se il piano è troppo complesso risulterà assolutamente incomprensibile ai giocatori e questo causerebbe l'effetto contrario si sentirebbero frustrati e quindi poi in mente perderebbero interesse nella storia anche la stessa quantità di cose che i giocatori devono tenere a mente per sapere qual è il piano e quindi procedere nella quest è rilevante ricordate sempre quello che ho detto sulla scollatura tra giocatori e personaggi per i personaggi sventare il piano malvagio potrebbe essere la cosa più importante che accadrà mai nelle loro vite fittizie per i giocatori quello è l'intrattenimento che hanno una due serie alla settimana ma poi hanno delle loro vite reali in cui hanno problemi reali in cui devono ricordarsi cose reali quindi non potranno tenere a mente tutte le informazioni che farebbero realmente i loro personaggi e non possono neanche dedicare a quella quest lo stesso sforzo che ci metterebbe una reale persona in quella situazione e un discorso analogo vale anche per i singoli PNG che appariranno sia come antagonisti che come deuterantagonisti all'interno della quest ognuno di loro dovrebbe avere un retroscena e una motivazione che li renda interessanti però non dovrebbero essere troppi e non dovrebbero avere dei retroscena troppo complessi altrimenti per i giocatori sarà impossibile ricordarli tutti e capire chi sta facendo cosa e perché se però non ce ne sono abbastanza la quest risulterà scialba e potreste anche incorrere nel problema che avete presentato solo due PNG e nessuno dei due piace al party e quindi far di nuovo perdere interesse verso la quest potremmo andare avanti all'infinito quante dovranno essere le fasi di questo piano che fondamentalmente vuol dire quanto dovrà essere lunga la vostra quest o la vostra campagna quanto dovranno spaziare nel mondo di gioco quanti tipi diversi di incontri o di situazioni dovranno esserci tutte queste situazioni potrebbero essere rilevanti come potrebbero essere del tutto influenti ma solo voi che siete lì al tavolo e conoscete il vostro gruppo in gioco potete avere una risposta su quale sia il punto di media corretto che va bene per il vostro gruppo in modo che il piano malvagio risulti sufficientemente complesso e difficile da sventare senza diventare mai né troppo complesso né troppo facile ovviamente non tutte le quest hanno bisogno di un grande piano malvagio potrebbero non avere alcun grande piano, nessun piano in assoluto dopo tutto i pirati e gli asteroidi hanno un piano che prevede nel sparare all'astronavi fin tanto che queste non gli danno il carico per farli andare via o se le astronavi sparano in risposta scappare per non farsi ammazzare e Grendal voleva solamente farsi una notte di sonno se però avete deciso che all'interno del vostro mondo di gioco dovrà esserci la grande organizzazione malvagia a quel punto merita dare a questa grande organizzazione un piano altrettanto grandioso che la faccia diventare il centro di tutta quella che è la storia del gioco e anche causa e principio di ogni male nel mondo dopo tutto sarà questo a rendere la quest veramente memorabile e proprio per questo nelle prossime settimane andremo avanti su questo argomento andremo a vedere i due trop che fanno diciamo da limiti ideologici a quelli che sono i piani malvagi che potrebbero arrivare all'interno delle vostre campagne però diciamo che per questo video ho già parlato fin troppo quindi adesso la parola sta a voi scrivetemi nei commenti qui sotto quali sono stati i piani malvagi delle vostre organizzazioni e come hanno fatto i vostri eroi a sconfiggerli sempre ammettendo che siano riusciti a sconfiggerle per il resto come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che potrà crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate anche i link ai social del MasterKai il gruppo di Discord e il server di Telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove si riunisce l'intera community del MasterKai così trovate altre persone con cui discutere io sono il MasterKai e noi ci vediamo nel prossimo video